Innanzitutto di goderci questa fine di 2014, caricando le batterie, ricaricandoci le energie necessarie per ricominciare al meglio il 2015 che deve continuare a portare i risultati positivi che stiamo raccogliendo. Grazie a tutti e auguri di buono. Un ringraziamento particolare a Riccardo e Gianluca per essere intervenuti a questa serata. Noi purtroppo siamo un club del nord e non abbiamo la fortuna che avete voi qui a Salerno per potervi organizzare in maniera molto più unita. Tra di noi addirittura delle volte distano chilometri di distanza, però il nostro motto nel nostro gruppo è la distanza ci separa ma la passione ci unisce. Quindi ogni qualvolta la Salernitana è presente al nord o da qualche parte di cui noi possiamo raggiungere a noi siamo sempre presenti. e con questo voglio augurarvi un anno splendido a voi e alle vostre famiglie e che l'anno prossimo la Salernitana possa ritornare al nord in modo che noi potremmo essere molto più facilmente agevolati nel poterla raggiungere. Perché purtroppo quest'anno sono state pochissime le trasferenze che ci siamo riusciti. Nino! Nino! Lo sono Nino! 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 Nino. No... Nino. NoThis is Scott'Anc Glenn girl. I just have hithet over you. No che armb Щук è finita in casa.